C'è il ricorso con tutte le motivazioni belle, fantastiche, e sti figli di puttana cos'è che fanno? Squalificano la curva non a una giornata, a due giornate! Quella, ripeto, è una razza protetta quella! Tu puoi toccare chiunque, morti, tutto, ma se tocchi i napoletani, guai! Ti squalificano, ti chiudono anche la casa! È una cosa vergognosa questa! Due giornate di squalifica, la mafia so io dov'è! Cioè, tu fai il ricorso con tutte le motivazioni giuste, ok? Con motivazioni che ti smerdano, e sti qua cos'è che fanno? Ti chiudono per una giornata la curva, ma per due! Siete lo schifo! Siete lo schifo! Siete lo schifo! Fine! Cioè, non c'è più altro da aggiungere, veramente! Ah, e per finire, altra cosa! Voi pensate che questa cosa serva veramente a qualcosa? No, questa cosa, l'unica cosa che serve questa cosa qui, ok? Questa squalifica di due giornate, serve semplicemente a far odiare quella tifoseria di merda ancora di più, ok? Buon, chiusa parentesi!